Da domani, mercoledì 21 aprile, quattro comuni della provincia di Pesero-Urbino diventeranno russi. Si tratta di Vallefoglia, Tavuglia, Monte Labate e Acqualagna. Ad essi si aggiunge Cerreto Desi, un comune della provincia di Ancona. Sono questi i territori in cui si è registrato un'incidenza superiore all'indice di riferimento dei 250 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. L'ordinanza emessa dalla regione vieta dunque da domani fino a domenica 25 aprile compreso ogni tipo di spostamento dalla propria abitazione. Non si potrà uscire né entrare all'interno di questi comuni se non per motivi di necessità, salute, studio o lavoro. Rimarranno invece aperte le attività economiche e le scuole, come già previsto per la zona arancione. E occorrerà in questi cinque giorni far sempre uso dell'autocertificazione per giustificare i propri spostamenti. Una decisione che ha colto di sorpresa anche il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, che lancia di fronte alle telecamere di Fano TV un ulteriore appello ai cittadini per far sì che rispettino le regole. Un tentativo da il 21 al 25 di contenere i contagi. Noi siamo passati da un minimo di 40 contagi ad un massimo di 140, adesso siamo sui 85-90 contagi. Ad oggi superiamo di poco la soglia di 250, siamo a 259-30. E quindi diciamo la raccomandazione che c'è anche nell'ordinanza è quello di evitare assembramenti. Se tutti ci danno una mano, ci diamo una mano rispettando le regole, in questa settimana invece di aumentare i contagi li potremo ridurre e dal 26, cioè dal lunedì prossimo, tornare magari in zona gialla. Credo che bisogna andare tutti a fare i vaccini. Io vado giovedì mattina a fare il vaccino a Pesaro. Abbiamo messo a disposizione della regione la zona industriale di Talacchio, la Mensa, che è di proprietà del comune, che ha un parcheggio immenso per fare i vaccini per questi 50.000 abitanti qui e non a Pesaro. E quindi speriamo che la regione accolga questa nostra proposta. Domani invierò una lettera all'assessore e alla struttura dell'Asur per fare in modo che si possa fare a tappeto e a tambur battente tutti i vaccini. Io capisco che la gente è stanche un anno, però ecco, quell'ordinanza vieta di andare nei giardini, nei parchi, nelle piste ciclopedonali, perfino ai cimiteri e anche nelle piste polivalenti. Quindi bisogna stare a casa e cercare di uscire il meno possibile per evitare i contagi.